Ciao a tutti! Oggi vedremo una maglia per i prossimi mondiali, quelli in Catarto 2022, la maglia dell'Argentina di casa in edizione FAN. La prima maglia dell'Argentina per la Coppa del Mondo 2022 è stata appena presentata da Avidas. La nuova maglia di casa dell'Argentina 22 è prevalentemente bianca con loghi neri, incluso il novissimo logo Avidas che fa il suo debutto calcistico con le divise dei mondiali 2022. Le strisce della nuova maglia sono classiche, ma solo sul davanti. Le strisce posteriori sono davvero insolite. Invece di avere la stessa larghezza, ci sono due strisce celesti più sottili al centro, con due più larghe all'esterno della maglia. Queste strisce più grandi sono circa tre volte più larghe di quelle al centro. Dovrebbe assomigliare alla bandiera argentina. Basato anche sulla bandiera, il Sol de Mayo, l'emblema della nazionale dell'Argentina, appare sulle retro del colletto. Meravigliosa. Io da sempre adoro la maglia dell'Argentina per questo abbinamento di colori e questa è veramente stupenda. Con questa rifinitura nera, tra l'altro, e con questi particolari, veramente ben riusciti. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, il massimo. Secondo me, come dico, una delle più belle maglie che vedremo a Qatar 2022. Qui in alto vedete il prezzo, come vedete è bassissimo e vi ricordo che in descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e sul sito potrete trovare una spedizione veloce, un'ottima qualità e anche degli sconti progressivi da poter usare. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità e le misure della maglia, quindi guardate fino alla fine. Prima di farlo, però, vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale per farci crescere, per poter avere, diciamo, altre recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao!